Andiamo tutta in scena Andiamo le pronte in sartuaria per favore Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Poi ti muovi Vai Motore Azioni Alta un pochino la testa Stai indietro all'inizio Adesso guarda in alto là giù Alzi verso l'inizio Guarda sempre le mie mano Non vi va come vi guardo Non vi guardo Eh non vi guardo Giriamo Buonasera ragazzi Sono Piero Canizzaro Mi sono sempre occupato Faccio il regista E ho vissuto varie esperienze di regia In vari ambiti Ma da sempre Ho approfondito Il tema del documentario Ho collaborato con le varie Reti RAI Che nel tempo sono cambiate Ho anche realizzato Nei primi anni Ottanta Una serie per la radio Verso l'isola Ed erano un esperimento Un po' sul suono Suono, rumori Ma avevo incontrato anche In questo viaggio Mi ricordo Leonardo Sciascia Parlando dell'uomo solo Ecco Quindi Poi ho collaborato anche con Arte E i miei lavori sono stati Girano Festival nazionali, internazionali E anche molto Gli istituti italiani di cultura Londra, Parigi Quindi Insomma Il documentario È la mia passione Che è legata un po' All'incontro dell'uomo E al territorio Al paesaggio Di documentario Adesso il documentario In qualche modo Si può dire che va un po' di moda Secondo me Perché Perché riesce a A entrare E a raccontare Delle storie Che non sempre il cinema Riesce a fare Sia per quanto riguarda La diversità di storie Che proprio nel linguaggio Perché in qualche modo Il documentario È più libero E in questo senso Si parla molto Di cinema del reale Io credo che Su questa interpretazione Bisogna un po' Stare attenti Perché cinema del reale Per molti È qualcosa Che è legato Solo all'impegno Io ho realizzato So documentari Il lavoro minoriera Napoli L'ultimo storie d'Africa E ossigeno Quindi mi sento molto dentro A questo movimento Però Per me è reale Anche La storia Di una goccia Di un Della neve Che scende Si scioglie Entra in un fiume Va nel mare Se uno lo sa raccontare E qui viene il problema Del linguaggio Di un regista Secondo me Anche quella È una storia Del reale Ogni storia Secondo me Deve avere Un proprio linguaggio Io penso Per esempio Al mio lavoro Ossigeno Che è il penultimo Lavoro Che ha girato In vari festival E soprattutto Anche all'estero Per esempio È una storia estrema La storia Di un protagonista Grippino Costa Che è un ex brigatista Che si è salvato Con la poesia Bene Siccome Mi interessava E dovevo entrare In empatia Volevo quasi rubare L'anima A questo personaggio Che ha avuto Fatto 30 anni Quasi 30 anni Nelle prigioni Carceri speciali Volevo raccontare Come avveniva La sua trasformazione interiore Per fare questo Dovevo essere molto vicino a lui Dovevo empatizzare Quasi come uno psicanalista Quasi come una seduta Terapeutica Al punto che Quando mi muovevo Con la mia telecamera Perché l'avevo in mano La facevo a mano Se mi spostavo Lui mi diceva Ma come? Non mi segui? Ecco Questo era proprio Il clima Che c'era su questo set Insomma E oltretutto Per parlare anche Di linguaggio Che ho adottato Avevo la telecamera obliqua Perché per me Era un modo Di muovermi Io che ho sempre amato O ho sempre amato Tutti i mezzi di trasporto Per fare le riprese Ricordo Tutti i viaggi Che ho fatto I documentari In Lapponia In Siberia In Africa E in altri posti A Silo Dove potevo Prendevo l'elicottero Perché mi piaceva Lo spazio Mi piaceva I totali In questo caso No In questo caso Dovevo proprio Stare stretto Perché volevo essere Volevo dargli un volto Volevo far sentire anche Il paesaggio Del suo volto Il paesaggio Del suo volto Era molto espressivo Ecco In questo senso Voglio dire che Ogni documentario Deve avere un suo stile I miei sogni Sono sempre un prigioniero Sono tutte situazioni In cui È una situazione Sempre di prigionia Di carcere E se non è carcere Comunque È una situazione In cui sono imprigionato Non posso uscire Sono comunque In una situazione Di prigionia continua Nel sogno E oltretutto È anche bianco e nero Che mi dà fastidio Perché invidio Quelli che sognano a colori E questo è un È un problema È un problema Che mi porto dentro Da sempre C'è quello di Di non riuscire a liberarmi Sia psicologicamente Sia energeticamente Del Del passato Nel tempo Ho realizzato poi Documentari Tipo Il cibo dell'anima Sono stato per un anno Sono andato in alcune Comunità spirituali In Italia Tipo L'Islam Gli ebrei Valdesi Osho Monastero di clausura San Benedetto Non deve essere assoggettato Al corpo Ecco perché San Benedetto Dice anche di essere sobri Nel cibo Perché questo Incide anche sullo spirito Quindi c'è sempre C'è un legame Che uno Sembra apparentemente Sembra che non ci sia Invece no Perché ad esempio Capita che quando Sono abbastanza Ecco leggera di stomaco Quindi ho mangiato In modo Equilibrato Giusto Quindi quando vado a suonare All'armonio Naturalmente Quindi il mio spirito È diverso Cioè lo sento Molto più leggero E molto più In armonia Con quello che suono Quindi anche il suono Che mi viene È totalmente diverso Cioè lo sento Molto più Più mio L'altro documentario È Città Slow Sul movimento Delle città slow Dei piccoli comuni Legato alla filosofia Di Slow Food Penso a La notte della Taranta Ed intorno Il primo documentario Che è stato fatto Sulla notte della Taranta Questo fenomeno Che poi È diventato Ormai un'altra cosa E sono contento Di averlo fatto Ai suoi esordi Ritorno a Coromuni Un documentario Su una festa Di un primo maggio Ovviamente Dove c'era molta musica La riappropriazione Delle proprie terre Da parte del protagonista Dove Questo nel Salento Spesso realizzo i miei lavori Per imparare Perché se ho un'intuizione Come per esempio Il tema della spiritualità Ho trovato la chiave Del cibo Per parlare di spiritualità Così come Per parlare Di poesia In una storia estrema Ho trovato ossigeno E poi fortunatamente M'è arrivato Una proposta Dall'Aix Dalla cooperazione italiana Per lo sviluppo In collaborazione Con l'OEM Di realizzare Un film In Africa Cioè di seguire La carovana Del cinema reina E' una carovana Che è stata in Africa Ma altre volte È stata in altri Continenti Per parlare Di vari temi Importanti L'Ebola L'ADS In quel caso Due anni fa Si parlava Si doveva parlare Di emigrazione Io ho accettato Però una condizione Cioè che io potessi Ovviamente il cinema reina Era importante Perché mi permetteva Di andare In villaggi Dove non sarei mai potuto andare Ho attraversato La costa d'Avorio Da Bidjan Fino al nord Fino a confine con Mali Ho attraversato Tutto il Senega Ho attraversato la Guinea Una volta arrivato Nei grandi villaggi Mi muovevo E cercavo Le persone Le persone che Avevano gli africani Cioè quelli che Noi di solito Vediamo sui barconi Tutte le persone Quella massa indistinta Di persone Ovviamente Sofferenti Che però Non gli diamo un volto A me interessava Dare un volto A queste persone Farle parlare Fare capire Anche le loro Le loro storie Le loro intimità Ho incontrato Storie Incredibili Di violenza Come Una delle protagoniste Della Guilea Che tra l'altro Chiude il film Che racconta Come era stata Violentata Ed era stata Entrata in una casa Dove doveva Prostituirsi Quando vous êtes In la maison Di prostitución Chaque Noi Vous êtes Obligé Vous êtes Violé Par 5 A 6 Omi 4 5 6 Personne Chaque Noi E tu Ombligé Così come Ho incontrato Invece Un'altra persona Mi ricordo In Costa d'Avorio Dove era stato In queste prigioni Della Libia Era stato Gli avevano portato Davanti a sé Sua moglie E il figlio Avevano Violentato Più volte La moglie Penso anche A una compagnia teatrale In Guinea Che ha elaborato E messo in scena Le violenze subite Nei campi di Priginia In Libia Come ha sottolineato Harry De Luca Queste persone Che hanno tentato L'aventure Come si dice Da quelle parti Esprimono Il coraggio Una voglia Di ricominciare Ricominciare Una nuova vita Piuttosto che Disperazione E questo sentimento Mi interessava Filmare Cogliere Per tornare Anche al linguaggio Che secondo me Ogni regista Dovrebbe avere Dovrebbe porsi Il problema Era come affrontarlo E qui Mi sono un po' legato Per esempio A ossigeno Cioè I piani Sono molto stretti Molto Molto sulle facce E scopriamo Che sono persone come noi Che soffrono come noi Che ridono come noi E quello Mi interessava molto Mi interessava molto Ovviamente Anche in questo caso Però poi c'era molto Paesaggio E una Invece Per secondo me Di viatici Che per me Sono importanti Come ho detto Per esempio Prima anche il cibo È un buon viatico Per leggere le realtà Le differenze Di alimentazione Che ci sono Tra i vari popoli In questo caso A me è sempre Interessata la musica Così come Mi ero occupato La musica salentina Ma anche la musica Occitana Quando avevo realizzato Un viaggio Tra Il Salento La Sardegna E il Piemonte È un viaggio musicale Ecco la musica è importante E Non poteva Non essere così Anche in Africa Dove Ogni villaggio Dove andavo Dove filmavo Queste persone Mi faceva indicare Qualche musicista Poteva essere Musica improvvisata La musica di un matrimonio Sono qui con questo video Insieme a altri Amici Colleghi Perché purtroppo I nostri I nostri lavori Non possono girare A causa di questo Coronavirus E Il film Questa storia d'Africa È già stato Fortunatamente Poco prima Che chiudessero le sale A Parigi E a Roma E doveva continuare Il suo viaggio Così come dovevano Continuare i propri viaggi Molti altri film Di tutti Di tutto il mondo Dall'italiani Europei Francesi Americani Perché il problema Come sappiamo È di tutti Io mi auguro Che presto Si risolva questo problema E presto Possiamo ritrovarci A proiettare I nostri I nostri film Nelle sale O anche Nell'istituto di cultura Nei luoghi di aggregazione Insomma Dove condividere le emozioni Che può trasmettere Un film O un film documentario Un saluto a tutti E spero a presto Ciao Ciao